Continua a crescere la curva del contagio da covid nel comprensorio, la diffusione si estende rapidamente, Paternò supera a quota 100 casi attivi. Poco più di 5.000 nuovi positivi al covid in Italia, aumentano gli ospedalizzati, gli attuali positivi in Sicilia, 442 le nuove infezioni. Incidente stradale, ieri intorno alle 19.30 lungo la strada statale 121 all'altezza di Contrada Palazzolo in direzione Catania, 5 le auto rimaste coinvolte, nessun ferito grave. Al villaggio Azzurro, nel quartiere San Francesco Larena Catania, tante strade e abitazioni sono ancora allagate a causa del nubifraggio dei giorni scorsi tra i volontari intervenuti sul posto, anche quelli della protezione civile di Adrano, le testimonianze dei residenti e dei soccorritori. Paternò protagonista in ambito nazionale in questo mese di novembre con la musica e il cinema dal coro polifonico Sturmundranga, l'attore Giovanni Calcagno per chiudere con il rapper Dinastia. Dolore appaternò per l'improvvisa scomparsa dell'avvocato Antonio Iannaci, impegnato da giovane in politica, aveva 43 anni. Buonasera, ben trovati per questa nuova edizione del telegiornale di Ciac Tele Sud che apriamo parlando di Covid. Continua a crescere la curva del contagio nel comprensorio, la diffusione si estende rapidamente e Paternò supera a quota 100 casi attivi. Vediamo. Corre il contagio da Covid nel comprensorio, la situazione è d'allarme in tutti i comuni. Lo scenario non è di certo quello dello scorso anno quando già la città piangeva i primi morti, ma questo non deve lasciar tranquilli. Il virus si diffonde rapidamente, basta guardare ai numeri forniti dai diversi comuni per capire. Si comincia da Paternò con i positivi balzati a 130, di questi 5 sono ospedalizzati, secondo l'ultimo bollettino fornito nel pomeriggio di oggi dall'ente, mentre 229 sono le persone in isolamento domiciliare. Una diffusione galoppante, se si pensa, che appena dieci giorni fa, con il bollettino di venerdì 5 novembre, i positivi attivi erano 68, di questi una persona era stata ricoverata in ospedale. Dunque in appena dieci giorni la diffusione è cresciuta di quasi il 100%. Non chiari quanti siano i vaccinati e quanti i non vaccinati dei casi attualmente positivi e ospedalizzati. Chiaro comunque che bisogna tornare ad alzare la guardia, che bisogna indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, sanificarsi costantemente le mani. Intanto, sempre a Paternò, prosegue la campagna vaccinale, che come prime dosi ha superato ad inizio mese il 75%, si resta invece lontani da quella soglia per gli immunizzati, cioè quanti hanno fatto prima e seconda dose con il dato fermo al 67%. Si ricorda che effettuare una sola dose non basta, non è sufficiente per essere protetti dal Covid, ed in alcuni casi anche la stessa vaccinazione non è sufficiente. Per quanto riguarda le vaccinazioni con una sola dose a Paternò, i risultati sono diversi a seconda del target d'età. Per la fascia compresa tra i 12 e i 60 anni si è raggiunto il 70%, mentre dai 60 anni in su si è all'85%. Sempre a Paternò, sia in ospedale che al centro un nonno per amico, va avanti la somministrazione del vaccino, anche con una terza dose partita per gli over 60. Da Paternò a Belpasso, dove la situazione appare ben più grave, secondo l'ultimo bollettino fornito dal Comune lo scorso 12 novembre, i positivi attivi sono 184, di questi quattro sono gli ospedalizzati. Da Belpasso a Ragalna, dove lo stesso sindaco Salvatore Chisari ha chiedere ai cittadini di fare attenzione visto la diffusione del contagio. Secondo i dati forniti dall'ente allo scorso 6 novembre, erano 11 positivi e 21 le persone in isolamento domiciliare. E sono poco più di 5.000 nuovi positivi alla Covid in Italia, aumentano gli ospedalizzati e gli attuali positivi. In Sicilia 442 le nuove infezioni. Il tasso di positività si alza e oggi si attesta al 2%, nonostante l'effetto weekend sui tamponi processati. I test esitati tra molecolari e antigenici sono stati quasi 249.000, i nuovi casi di Covid in Italia 5.144, 44 invece i decessi con e per Covid nelle ultime 24 ore, i guariti oltre 3.500. Le persone contagiate sono adesso quasi 121.000, in aumento di 1.645 unità nelle ultime 24 ore. Crescono gli ospedalizzati in terapia intensiva, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite ci sono 17 malati gravi in più, per un totale di 475, mentre in area medica i posti letto in più sono 161, per un totale di 3.808 persone ricoverate con i sindomi tipici dell'infezione. In Sicilia 442 nuovi positivi su oltre 13.000 tamponi processati dalle strutture sanitarie regionali con un'incidenza del 3.3%. Tra i decessi che si riferiscono a giorni precedenti, i guariti 84, i soggetti positivi al Covid aumentano di 355 unità, per un totale di 9.432. Diminuiscono i malati intubati in rianimazione di 4 unità, adesso sono in tutto 46, mentre in area medica i posti letto in più sono 8, per un totale di 338. 101 nuovi positivi nella provincia di Catania, dietro solo i 135 della provincia di Messina. Appaternò i 130 gli attuali positivi, di cui 5 ospedalizzati. Ad Adrano il Comune non fornisce i dati dal 9 novembre scorso. Adesso la cronaca, la Guardia di Finanza di Catania, ha sgominato un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe nei confronti della Regione Lazio, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. I finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un'ordinanza firmata dal GIPA della Tribunale di Catania in Sicilia, Lombardia, Lazio, in Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito. Sono state disposte misure cautelari nei confronti di 4 persone. Altri 11 soggetti sono indagati per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato. Truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono state sequestrate 16 tra società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento, oltre a disponibilità finanziarie detenute in Italia e all'estero per oltre 500 mila euro. E incidente stradale ieri sera intorno alle 19.30 a lungo la statale 121 all'altezza di Contrada Palazzolo in direzione Catania. Cinque le auto coinvolte, nessun ferito grave. Vediamo. Ancora un incidente stradale. Purtroppo quello verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 121 all'altezza di Contrada Palazzolo in direzione Catania. Cinque le auto rimaste coinvolte. Due Golf, una BMW, una Fiat Panda e una Fiat 500. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Quattro le ambulanze del 118 giunte sul posto per i soccorsi. Secondo quanto riportato, sei sarebbero le persone rimaste ferite portate presso gli ospedali Cannizzaro di Catania e Santissimo Salvatore di Paternò. Fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò e di Belpasso e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Ad effettuare i rilievi e a condurre le indagini necessarie per ricostruire la dinamica dell'incidente, i carabinieri della stazione di Belpasso. La viabilità in direzione Catania ha subito forti rallentamenti. È stato presentato alla Camera di Commercio di Siracusa il dossier elaborato dal Governo regionale per il riconoscimento dell'area di crisi della zona industriale Polo di Siracusa. Il documento presentato ai sindaci, alle aziende e alle organizzazioni sindacali sarà approvato in giunta e poi inviato al Ministro per lo sviluppo economico. L'obiettivo è ricevere risorse finanziarie per abbattere i costi delle materie prime per le aziende che operano nel polo petrolchimico di Siracusa, falcidiato da una crisi economica appesantita dall'emergenza sanitaria. E al Villaggio Azzurro, nel quartiere San Francesco, l'Arena a Catania, tante strade e abitazioni sono ancora allagate a causa del nubifraggio dei giorni scorsi. Tra i volontari intervenuti sul posto anche quelli della Protezione Civile di Adrano, le testimonianze dei residenti e dei soccorritori. Vediamo. Anche persone invalide intrappolate nelle loro case, nel quartiere San Francesco l'Arena, esattamente al Villaggio Azzurro a Catania, in tanti isolati a causa del nubifraggio dei giorni scorsi, case strade allagate perché l'acqua ristagna. Da qui necessari soccorsi per liberare i residenti della zona cercando di fare defluire l'acqua a mare. Sul posto sono intervenuti anche volontari della Protezione Civile di Adrano, con loro naturalmente altri soccorritori provenienti da tutta la Sicilia, tra i quali quelli dell'Arcicaccia, 10 Reale, e il gruppo volontari italiani Sezione di Catania. Sentiamo le testimonianze di una residente del Villaggio Azzurro e di Maurizio Sant'Angelo della Protezione Civile di Adrano. Sono la signora D'Amico Maria, residente in questo villaggio dal 2006. Questo è il Villaggio Azzurro e questo è il Viala Azzurro numero 9. Come potete vedere la situazione è veramente disastrosa. In tanti anni che sono qua dal 2006, in tanti anni non mi ricordo mai una situazione del genere. Sì, qua si accumula sempre l'acqua, ma poi se ne va. Adesso è quasi più di 20 giorni che siamo in questa situazione. E io ho due invalidi che non possono uscire da casa da più di 20 giorni. Sono segregati in casa e non puoi intervenire qua, quasi quasi neanche le ambulanze se stanno male. Grazie alla Protezione Civile stiamo cercando di risolvere un po' la problematica. Come dice la signora D'Amico, tutte le persone, o quasi tutte diciamo, la maggior parte delle persone residenti in questo villaggio, che sono circa 550 circa, la maggior parte sono isolati perché c'è l'acqua alta. In questi giorni si è provato a tirare l'acqua, ma si è costatato che l'acqua tirata per buttarla via e toglierla dalle strade, ritornava indietro. Abbiamo cercato di valutare bene la situazione, abbiamo dovuto stendere 350 metri di manichette per poter portare l'acqua tirata direttamente a mare. In 32 anni di attività di Protezione Civile non ricordo di aver tirato tutta quest'acqua, l'acqua che abbiamo tirato finora, ma quando parlo tirata parlo di tutto il volontariato della Protezione Civile della Regione Siciliana. Non so cosa ci aspetterà più avanti, speriamo bene. Comunque la cosa che ci fa ancora continuare a fare questo tipo di attività è il bene che ci vuole la gente. Quando arriviamo noi, per loro noi siamo degli angeli, ma il volontariato di Protezione Civile non molla mai. Siamo sempre presenti e sempre attenti, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione di emergenza. Paternò protagonista in ambito nazionale in questo mese di novembre con la musica e il cinema. Dal coro polifonico Sturmundrang l'attore Giovanni Calcagno per chiudere con il rapper Dinastia. Vediamo. Musica e cinema protagonisti in questo mese di novembre grazie ai brillanti risultati che alcuni artisti paternesi sono riusciti a raggiungere. Generi e attività tra loro diversi, ma tutti hanno un filo conduttore, il talento che riesce ad emergere ed affermarsi in ambito nazionale. Tre i talenti in questione, ma nel panorama locale, sono molti di più e tutti presto o tardi avranno il loro giusto riconoscimento. Cominciamo con il coro polifonico Sturmundrang diretto dal maestro Salvatore Coniglio che al 38esimo concorso polifonico nazionale intitolato a Guido Arezzo si è piazzato al terzo posto nella categoria dei cori misti. Ai partecipanti era stato richiesto di portare brani di musica rinascimentale romantiche del XX secolo. Il coro si è presentato anche con un brano inedito del maestro Salvatore Coniglio. La fondazione Guido Arezzo organizza da tanti anni degli eventi a livello internazionale. Una commissione di tutto riguardo, una commissione che vede il top della polifonia in Italia, ha giudicato diversi cori provenienti da tutta Italia, livello altissimo. Il concorso richiedeva dei repertori ben precisi. Bisognava partecipare a questa competizione con un repertorio che aveva dei brani di musica rinascimentale, di musica scritta tra il 600 e l'800 e di musica contemporanea. Per cui è stata una grande sfida con noi stessi prima di tutto. E abbiamo partecipato con un brano composto da me, scritto da me, abbiamo eseguito praticamente in prima assoluta. E questo brano tra le altre cose ha ricevuto un plauso particolare da parte della commissione. Per cui ancora doppio l'onore e il piacere per quello che abbiamo fatto. Il coro prima di salire sul palco eravamo tutti emozionati e agitati, anche perché sapevamo che il livello era appunto altissimo. Però nonostante questo ci sentivamo pronti ad affrontare questa sfida perché ci eravamo preparati tanto. Avevamo studiato tantissimo, abbiamo provato praticamente tutti i giorni e quindi volevamo provare a fare questa cosa e alla fine ci siamo riusciti. È stata infatti una bellissima esperienza e siamo anche grati al maestro Salvatore Coniglio, nonché al mio fratello. Perché diciamo che l'amore del coro è partito da lui, non soltanto lo studio ma l'amore. Il nostro è stato il secondo coro nella storia di questo concorso siciliano a partecipare ad aver vinto. Dalla musica al cinema con un nuovo obiettivo raggiunto per l'attore paternese Giovanni Calcagno che con il film Paradise Una Nuova Vita ha vinto il Globo d'Oro nella categoria Miglior Opera Prima. Ad assegnare il riconoscimento alla film del regista Davide del Degan è stata l'associazione stampa estera in Italia. Dal cinema si ritorna alla musica con Maurizio Musumeci in Arte Dinastia che con il suo ultimo brano confidenziale ha raggiunto la seconda posizione nella classifica top 50 delle radio airplay di musica indipendenti. Ancora una volta Dinastia fa centro per un brano che piace, una canzone che come lo stesso Maurizio Musumeci dice è una lettera a me stesso che ho scritto un giorno che mi andava di restare leggero senza corazza con le mie certezze abbastanza fragili, sicuro comunque del fatto che niente mi avrebbe scalfito. che teno spesso con un po' di vino e non è facile capire chi sono o tentare di spiegarla a qualcuno ho messo una canzone che mi piace e sto fallando in questa stanza al buio e quando sono triste non lo dico io non so confidarmi con nessuno e ho scelto ogni parola che ho vestito e adesso un guardaroba che non uso Morì a Palermo nel 1625 a Palermo venne sepolta nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi nel tempo però della tomba di Sofonisba Anguissola celebre ritrattista ammirata anche da Michelangelo si sono perse le tracce il mito della pittrice cremonese viene riletto domani in un convegno promosso a Palermo dalla Fondazione Federico II e dall'Istituto Cervantes che si svolgerà proprio nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi e adesso un ultimo servizio Dolore appaternò per l'improvvisa scomparsa dell'avvocato Antonio Iannaci impegnato da giovane in politica aveva 43 anni Dolore oggi appaternò per la notizia della morte dell'avvocato Antonio Iannaci a soli 43 anni l'avvocato Iannaci ha improvvisamente lasciato questa vita e con lei i familiari la moglie e i due figli di 5 e 3 anni tanti gli attestati di stima nei confronti della persona che Antonio Iannaci ha rappresentato negli anni è di dolore per la sua improvvisa quanto prematura scomparsa lo ricorda il presidente dell'Associazione Forense di Paternò Maria Grazia Pannetteri che in una nota evidenzia increduli e attoniti per la tragica notizia ci stringiamo al dolore della famiglia dell'avvocato Barbara Nicolosi e di tutti i colleghi dello studio Nicolosi dove Antonio aveva svolto il periodo della pratica e della formazione forense a ricordarlo anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese che su Facebook scrive Antonio Iannaci se ne è andato con lui se ne va un amico un ex dirigente giovanile di azione giovani e di alleanza nazionale un fratello con il quale abbiamo condotto numerose battaglie politiche all'università e a Paternò sua città natale appena pochi mesi fa aveva perso il padre a causa del covid i funerali si svolgeranno domani 16 novembre alle 11.30 nella chiesa di Santa Barbara a Paternò anche noi di Ciac News che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo ci stringiamo al dolore dei familiari è un pensiero, un ricordo di Antonio Iannaci lo dà il vice sindaco di Paternò Ezio Mannino che in una lunga nota dice presidente di azione giovani senatore accademico dell'Ateneo di Catania professionista indiscusso e persona di grande cultura con l'amore sempre forte per la politica ma soprattutto amico fraterno Antonio Iannaci ci ha trasmesso dice il vice sindaco Mannino il suo amore per la politica la cultura, la musica e la storia uomo di legge dotato di grande intelletto e di eccezionale equilibrio oggi mi resta indelebile il suo romanticismo politico associato alla grande capacità di concretizzare le idee in azioni Antonio Iannaci è rappresentato e rappresenta ancora nella nostra città una comunità da lui voluta e creata insieme a me e Salvo Pogliese a Santi Ciravolo Ezio Ladelfa Michelangelo Santonucito Antonio Lamanne Eugenio Guido Giuseppe Sapia sempre con disinvoltura e senza paura ha buttato il cuore oltre l'ostacolo lo stesso che hai donato alle persone che ti hanno conosciuto lo stesso che come dice Salvo Pogliese ti ha tradito e strappato a noi e con questo ricordo di Antonio Iannaci si chiude questo spazio con l'informazione di Ciacere Sud io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione Buona serata Buona serata Buona serata